Quindi fare un film significa coinvolgere le persone nel sociale Quindi il messaggio è quello di invitarvi, di partecipare, di prendere parte nella comunità Quando penso ai grandi registi italiani da cui ho imparato E lui è uno di loro E lui sembra molto giovane in quella foto Ma ci sarà per sempre La lezione che si apprende da loro è di parlare direttamente alla propria comunità Non puoi parlare al mondo finché non sei in grado di parlare al tuo vicino di casa Non vedo l'ora di venire al festival Le amo questa tradizione italiana Durante l'estate di portare i film fuori dalle città E portarli nelle regioni, nelle campagne Fuori da Roma diciamo È una cosa positiva da fare E sono molto contento che voi facciate questa cosa Non c'è nulla di diverso rispetto agli ultimi 5.000 anni Come essere umano sei circondato dal mondo che non sei isolato con te stesso L'atto di fare film è un atto di comunicazione È un altro modo di raccontare una storia Puoi disegnare sul muro di una caverna All'inizio dei tempi c'è qualcuno che caccia un animale Qualcuno lo apre, lo squaccia Lo cucina Ma alla fine della giornata c'è qualcuno che si siede e racconta la storia della caccia Qualcuno disegna un disegno della caccia La storia è importante come la vita, come il fatto È la vita stessa La vita invece volevo chiedere quanto è importante per il suo cinema E quanto si può raccontare della propria vita Quanto si può essere autobiografici direttamente E quanto invece bisogna filtrare in qualche modo la propria vita sullo schermo Non so, per esempio con un alter ego come William Dafoe Nel caso di Tommaso o di altri film Quanto può andare diretta la propria vita sullo schermo, secondo lei? Io non ho scelta, come ho detto prima Se sei un estro al tuo lavoro Qual è la vita che darai O che rappresenterai Cioè per esempio Tommaso Un film dove io ho lavorato E William e Cristina che sarebbe sua moglie Ma il gruppo ha fatto il film Riguardo un quartiere molto specifico Non è riguardo Roma, ma riguardo Conte-Opio Vicino a Pezzifettore In quella zona molto specifica La gente di quel luogo, di quella zona Non voglio dire che questi film Siano specificamente riguardo me o no È il sacramento Il cinema Non ti mangiare Se sei veramente Relazionato al film La ragione per cui le facciamo è per esprimerci Non per esprimersi Ma per la risposta Il film non esiste sullo schermo Ma esiste tra lo schermo e il pubblico Un film non esiste in un cinema vuoto E questo è il motivo per il quale un film cambia 50 volte Ogni volta che vede un film, vede un film diverso Quindi riguardo l'opera di questo Golden Up È un film che ho visto cinque volte L'ultima volta che ho visto L'ultima volta che ho visto ProveAN Eungsitutto